Manuela, vorrei dirti solamente una cosa. Conoscerti e incontrarti è stata la cosa peggiore che potesse capitarmi. Hai cercato di distruggere la mia famiglia, il mio matrimonio, e alla fine, nonostante io ti difendessi strenuamente, nonostante io ti implorassi di dirmi la verità, tu non ti sei mai voluta assumere le responsabilità dei tuoi comportamenti. Queste sono le parole di Valeria Bartolucci, vicina di casa di Pierina Paganelli, l'ex infermiera uccisa con 29 coltellate nei garage della sua abitazione a Rimini il 3 ottobre 2023. Sono già passati più di sei mesi e il criminale senza scrupoli non ha ancora un nome né un volto. Con il passare del tempo, le relazioni tra le quattro persone coinvolte in questo dramma diventano sempre più tese, aggravate anche da una lettera anonima di cui parleremo in seguito. Al momento non ci sono indagati per la morte della pensionata. Fin dall'inizio, l'attenzione degli investigatori si è concentrata su quattro individui strettamente legati alla vittima. Tre di loro, addirittura, vivevano sullo stesso pianerottolo di Pierina. Si tratta di Manuela Bianchi, nuora di Pierina, insieme a suo marito Luis da Silva, un senegalese, e di Loris Bianchi, fratello di Manuela. Sebbene Loris risieda a Riccione, era presente a cena dalla sorella la sera dell'omicidio. Durante le indagini è emerso che Manuela aveva una relazione extraconiugale con Luis, una rivelazione che ha scosso la comunità e ha naturalmente portato a considerare l'ipotesi che Pierina, venuta a conoscenza dell'infedeltà della nuora, sia stata uccisa per questo motivo. Ma al momento non ci sono prove a sostegno di questa teoria. Inoltre, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Pierina sospettava che la nuora tradisse suo figlio, ma non conosceva l'identità del suo amante. I quattro individui sospettati continuano a scambiarsi reciproche accuse, ma non riguardano l'omicidio, bensì questioni personali. Lo scontro più aspro avviene tra Valeria e Manuela, in passato amiche e ora rivali in amore. Valeria è naturalmente delusa dal comportamento di Manuela, che ha intrattenuto una relazione clandestina con suo marito. Senza mezzi termini, Valeria si rivolge direttamente alla rivale e si sfoga così. Liquidi questa faccenda personale con le parole quello che è successo. Eh no, gli incidenti stradali succedono, mentre le relazioni extraconiugali si vogliono. Le cose verranno chiarite a tempo debito. Non puoi sottrarti per sempre. Devi accettare le conseguenze di quello che hai fatto. Manuela avrebbe proposto un incontro faccia con Valeria, accompagnato da un consulente, ma quest'ultima avrebbe rifiutato. Nonostante Manuela ribadisca da mesi la sua estraneità al delitto, molti continuano ad accusarla e persino a minacciarla. Di recente ha ricevuto un'altra lettera anonima, piena di insulti. La donna ha commentato con fermezza, non mi sento tranquilla. Nella lettera si menziona sia lei che Valeria, entrambe definite dall'autore anonimo come complici nell'organizzazione del delitto. Ecco alcuni estratti di questa missiva. Mi sono formata questa opinione sulla morte di Pierina, giusta o sbagliata che sia. Voi due donne, cioè tu e la moglie di Louis, non avete sferrato personalmente le coltellate sul corpo della vittima, però siete state complici del vero assassino. Cioè tu, principalmente, hai detto a Loris o Louis, uccidi mia suocera perché sta diventando un personaggio scomodo, in quanto puritana e moralista. Lei non sopportava che tu mettessi le corna al figlio. Non è la prima volta che Manuela riceve lettere di questo tipo. Nei mesi scorsi, frasi offensive erano apparse anche sulla sua auto e in giro per Rimini. Manuela ha dichiarato di avere dei sospetti su chi si nasconda dietro questi messaggi anonimi. Queste lettere non forniranno alcuna chiarezza su ciò che è accaduto la maledetta sera del 3 ottobre. Al momento sembra che tutto ruoti attorno all'adulterio della nuora, su cui Pierina stava indagando per scoprire l'identità dell'amante. Da parte sua Manuela tradiva suo marito Giuliano, mentre egli era ricoverato in ospedale in seguito a un incidente in bicicletta. Pierina aveva deciso di affrontare direttamente la questione e di portarla all'attenzione dei confratelli della Sala del Regno dei Testimoni di Geova, frequentata sia da lei che da Manuela. Il 4 ottobre era prevista una riunione per discutere dell'argomento. Quali sarebbero state le conseguenze? Manuela sarebbe stata espulsa dalla confraternita per adulterio, ipotesi più che probabile. Ciò avrebbe gravemente compromesso la sua reputazione e avrebbe inevitabilmente portato suo marito a scoprire il tradimento, con tutte le conseguenze che ciò avrebbe avuto sul loro matrimonio. Inoltre ci sarebbero state ripercussioni sui rapporti tra Manuela e i suoi amici e conoscenti. Tutti questi elementi hanno attirato l'attenzione dei media e degli investigatori sulla nuora della vittima e sui suoi stretti contatti, inclusi il fratello e l'amante. L'unico a essere a conoscenza della relazione tra sua sorella e il senegalese con cui aveva stretto amicizia era proprio lui. Manuela sta mettendo in atto ogni possibile sforzo per allontanare i sospetti da sé. Per ottenere aiuto, ha incaricato il suo consulente personale, Davide Barzan. Secondo l'esperto, le indagini non sarebbero state condotte in modo scrupoloso, ha dichiarato. C'è stato un pregiudizio iniziale innescato dalla relazione extra coniugale tra Luis e la mia cliente. Quando hanno trovato il cadavere di Pierina, la scena del crimine non è stata tutelata, ma sequestrata solo dopo 24 ore e dissequestrata dopo altre 72 ore. La prova scientifica che uno dei quattro sospettati sia dall'assassino di Pierina non è ancora emersa. Allo stesso modo, non vi è certezza che il colpevole provenga dall'esterno. Ma non tutto è perduto. Ci sono ancora importanti accertamenti da effettuare. In particolare, è essenziale verificare gli alibi, soprattutto quelli dei fratelli bianchi. Entrambe affermano di essere stati a casa di Manuela con la figlia mentre Pierina veniva uccisa. L'analisi del telefono della ragazza potrà confermare o smentire questa versione. Inoltre, c'è da chiarire il motivo per cui Luis non ha immediatamente consegnato i suoi vestiti agli investigatori, ma solo successivamente. Qual è la ragione di questo ritardo? In particolare dove si trova la maglietta che indossava la sera del delitto? Luis afferma di averla persa, ma com'è possibile? Il mistero continua.